via podgora via via podgora via podgora via via podgora gallas mi piaci all night long gallas mi piaci vergognosissimo e buongiorno a tutti buongiorno a tutti guardate questa vetrina dietro vedete che è stata fatta appunto per la festa degli alpini c'è un cappello di alpino del mio papà del titolare siamo qui alle tre sorelle finalmente rientriamo dopo tanto tempo abbiamo titolare marco anzi venite a vedere che c'è uno spettacolo esterno fuori abbiamo il meccanico e il rientro di vincenzo che ha avuto il suo problemino ma noi risolviamo tutti i problemi e siamo qua vediamo se riusciamo a girare un attimo ai signori vediamo se riusciamo a girare non fai la propria via via ha fatto fa vabbè stiamo riprendendo bene allora no si parlava di bar di cosa allora c'era questo questo come si dice questo ecco mettiti un po più in là entrambe tu sei al bar arriva uno sai mario no ma di mario ma di ma di mario si mette a me va a faccio tutto arriva detto arriva detto da due slavinati a mario mario partiare balista cinese e giapponese balista 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 quando quando si sveglia maglio dini che questa era una prima mossa di calatè del nostro paese e va via dopo mario veni fa sa sa un po problemi no ma di mario come stai a me sono bene ma di calatè e tra cinese mario partiare balista quando si alza a mario di lì che questo era lì cussiglia gatti seconda mossa di calatè terzo giorno arriva mare puli stampelli ma di calatè quando si alza a mario questa terza lezione di calatè giorno dopo arriva mario nolere mario nolere arriva cinese balista hai visto mario no non hai visto mario in quel momento entra mario buuu e barista dica al cinese che che cara è nel cric del 526 via podgora via via podgora via via podgora galas mi piace via podgora via via podgora all night long prego galas mi piace vergognosissimo ciao ciao ciao